...tutte le località che possono usufruire di questo bonus, per un totale di 2000 km di coste. E qui dicevamo Sardegna? Sardegna, Calabria, Sicilia, parte della Puglia e parte della Toscana, soprattutto nelle zone di maggior pregio, l'Isola d'Elba, l'Arcipelago Toscano, il Giglio, Pianosa, nomi che solo a dirli evocano mari sicuramente di grande pregio, di grande pulizia. Per cui cosa succede? Qual è il problema? Che la FEE dice no, tu devi fare 12 prelievi, se non hai 12 prelievi io non ti prendo in considerazione. Ed esclude dalla possibilità di avere il premio i 2000 km di costa più puliti del nostro paese. Per cui il paradosso è che dando la bandiera blu in posti come questo in Molise, vedrete il servizio che è legato a questa intervista, ci saranno le immagini, o posti come l'Erici dove siamo andati l'anno scorso, dove c'era una puzza incredibile di Fogna e dove il Comune ha mandato tranquillamente la propria certificazione, viene data la bandiera blu. A questi la bandiera blu non viene data. Tra l'altro ti faccio una domanda, questi posti che tu mi hai nominato che non hanno la bandiera blu e che hanno i mari puliti, la goletta tua c'è stata? Sì. E hai fatto dei prelievi tu qua? Sì, abbiamo fatto prelievi, è risultato tutto assolutamente favorevole. Tutto pulito? Sì. Per cui c'è una certificazione anche superiore, cioè non c'è soltanto la certificazione dell'autocertificazione loro, c'è anche, ci sono stati i vostri prelievi. Sì, certo, ma ci sono anche altre due situazioni leggermente paradossali. Una è che in alcuni casi per dare una o due bandiere blu anche a queste regioni, diciamo, per evitare il fatto che la Sardegna o la Sicilia o la Puglia risultassero, assegnano delle bandiere blu a delle località che hanno 12 prelievi e quindi non 6. E quindi paradossalmente a quelle località che non possono usufruire del bonus della normativa nazionale data alle località più pulite. Oppure, in altre circostanze, i poveri comuni costieri, per avere questo vessillo, che obiettivamente è un vessillo forte dal punto di vista della comunicazione, eccetera, si fanno carico di effettuare a proprie spese, quindi a spese dei cittadini di quella località, i sei prelievi suppletivi, che costano, abbiamo fatto un calcolo sulla base dei dati dell'ARPA toscana, dai 10 ai 30 mila euro a secondo delle dimensioni della fascia costiera del comune interessato. Quindi sono soldi sostanzialmente sprecati in maniera inutile ai fini della tutela del bagnante, ma che servono solamente ad avere la bandiera blu. Allora, entriamo un attimo in quelle che sono le dinamiche della bandiera blu. Tu da giugno a quanto? Tu 30 giugno? Sì. Allora, vi ricordiamo che dal 30 giugno ci saremo Nicola e Dio anche sulla loro goletta, perché vi vorremmo illustrare come vengono fatti obiettivamente i prelievi. Con la tua goletta tu ti fai tutti i tre mani, l'Adriatico, il Tireno e l'Ionio, con tre golette o due. Tre golette. Perfetto. Voi materialmente prendete i campioni, li fate analizzare. Certo. Per cui lì c'è la certezza di quello che voi avete raccolto. Sì. Ora. Quello che noi diciamo è che effettuiamo una fotografia, quindi come tutte le fotografie... In quel istante. Può venire un po' sfocata, può venire bene, però è certo che in quell'istante, in quel giorno, a quell'ora, la situazione di quel tratto di costa era quella. Perfetto. Ora mi devi dire una cosa. Ma secondo il tuo punto di vista è una cosa seria che un comune autocertifichi la propria condizione dei propri mari? Indipendentemente da quello che viene fatto da voi. Mi sembra che invece andate in loco, perché voi non siete legati ad autocertificazioni. Se ho ben capito, senza chiedere niente e nessun permesso, voi con la vostra coletta passate, non neanche molto a largo, andate vicino alle coste, raccogliete e analizzate. Se è il mare pulito è pulito, se è sporco è sporco. Ora, ma chi è questa FEE che si basa sull'autocertificazione? È riconosciuta dal punto di vista legale dalla comunità europea? Sì o no? No, è un'associazione ambientalista internazionale, ambientalista si occupa di educazione ambientale prevalentemente, di profilo internazionale, nel senso che oltre ad avere una sede in Italia, ce n'ha anche in Danimarca, in alcuni altri paesi dell'Unione Europea. Grazie a tutti.